Come si fa pantaloni? Poi c'è stato mio padre e poi io la terza e ora ci sarà la quarta, tra poco che debutta anche la quarta generazione della nostra azienda. Noi facciamo un pantalone sartoriale con lo stile contemporaneo, cerchiamo di ringiovanire un prodotto che è stato sempre nel guardaroba di un uomo visto come classico e noi lo rendiamo sportivo, con colori e con particolarità che cerchiamo di dare sul prodotto. Noi quest'anno abbiamo portato a Pitti un pantalone d'autore, abbiamo fatto un denim dipinto a mano da un giovane pittore napoletano emergente, questi pantaloni sono dipinti singolarmente a mano, uno per uno. Noi quest'anno!